Amadeus Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi, morto improvvisamente a soli 60 anni, guarda. Come tanti altri VIP, guarda, non ha voluto mancare alla camera ardente. Con un pensiero speciale alla moglie Carlotta Mantovane e alla figlia Stella, guarda, in fila c'erano anche migliaia di persone comuni leggi, foto, video, Corriere TV.